Riattivare il metabolismo, un trucco veramente assurdo e 8 sostanze naturali. Parliamoci chiaro, riattivare il metabolismo non vuol dire un caspio, ma c'è un trucco che può realmente darti una spinta energetica veramente potente al mattino. La defecazione. Tu mi dirai che prendi il caffè solo per defecare e io ti dirò di non farlo perché puoi usare qualcosa di molto più economico, efficace e che non ti drena le energie a lungo andare. Bere un grosso bicchiere di acqua calda. Non da ustionarsi chiaramente. L'acqua calda muove il tuo intestino e ciò fa sì che tu possa facilmente dedicarti ad un elegante cacà. Defecare al mattino è molto utile per sentirsi bene nella mente e nel corpo perché, detto in soldoni, aiuta a ricevere segnali positivi dall'intestino che raggiungono così il cervello. Oltre a questo trucco mattutino c'è un altro segreto per mantenere la tua energia a livelli stellari. Un mix naturale di 8 sostanze che supportano metabolismo ed energia. Sto parlando dell'arginina 5 grammi in bustine da sciogliere in acqua, unita a vitamina C, D3, B6, B12, B9, Dribose e K2. È importante che queste sostanze siano solubili in acqua e quindi possano essere bevute perché l'acqua è il mezzo attraverso cui tutti i processi vitali del nostro corpo si svolgono e avere questi nutrienti in forma liquida migliora l'assorbimento e l'efficacia di ogni singola sostanza. Per comodità ti lascio un integratore perfettamente dosato e adeguatamente formulato sul link nel mio profilo.